Oggi, oggi rinistiamo così questo video, perché sono passati 30 secondi, a dir tanto, dalla fine della partita. Sono ancora un po' scosso, sono ancora un po' scosso, ma sono ancora tremendamente arrabbiato, sono incassato con una iena perché una partita come questa, rovinata in questo modo all'ultimo secondo veramente ragazzi, cioè. Non so se riuscirò a organizzare un discorso con delle parole buttate giù in maniera logica, probabilmente no, vi invito a scaricare OneFootball, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Fatelo assolutamente, cercheremo di ricostruire questo post partita su OneFootball, con tutte le notizie che ci saranno. Non so che cosa, come iniziarla. Allora, teatro degli orrori finale, abbiamo la palla noi, abbiamo la palla noi, siamo riusciti a ripartire, mancano 15 secondi alla fine, Dybala la stoppa, male, la palla esce, ci sono 10 secondi, Inzaghi deve girare Marusic per fargli capire che non la può battere indietro perché non c'è più tempo, Inzaghi proprio gira Marusic, tira la la, tira la la, stiamo perdendo, mancano 10 secondi, tira la la, la tira la, Correa ci salta, la nostra difesa si fa affondare come il coltello nel burro, salta in mezzo a due tra Bentancur e Rabiot, mette il pallone in mezzo, Bonucci fa girare completamente Kaiseido, tac! Io ve la riassumo così sta partita, dire che ha sbagliato sul Dybala? No, dire che ha sbagliato sul Bentancur? No, dire che ha sbagliato sul Rabiot? No, dire che ha sbagliato sul Bonucci? No, e ve ne dico un'altra, dobbiamo imparare a chiudere queste partite, dobbiamo imparare a chiudere queste partite, perché l'1-0 andava bene, andava bene, sì sì, andava bene, andava bene, va bene fino a che non facciamo queste cose qua, però andava bene, andava bene e poi non va più bene. No, sono arrabbiato, oggi sono imbestialito, perché dovevamo chiudere con una vittoria, dovevamo portare a casa una vittoria anche oggi e concludere questo ciclo, questo mini ciclo di partite complicate con una vittoria anche oggi. Era stata anche una bella partita, l'avevamo giocata anche bene secondo me, avevamo avuto delle buone occasioni, avevamo gestito bene il pallone, abbiamo avuto anche l'opportunità di andare più volte a prendere il 2-0, però ancora quel Paolo di Ronaldo, per dirne una, mi sta qua, mi sta qua, però anche quelli che entrano devono entrare con della cattiveria, di bala c'hai 10 secondi, Paolo c'hai 10 secondi, Paolo qua non si parla di dire non sei in forma, hai bisogno di tempo, qua si parla che hai 10 secondi che devi tenere il pallone lontano. Cazzo, fra botta che nell'under 23 tutte le palle che ha avuto negli ultimi 4 minuti, non è in grado di gestirle, manca poco, allontaniamo la palla dall'aria, santo il signore, però è riduttivo adesso a canirsi su di bala, è una cosa che però, cioè ce l'ho dentro e non posso non dirla ragazzi, ce l'ho dentro e non posso non dirla, qua Paolo veramente. Siamo già andati a Roma due volte, non ci torniamo più probabilmente quest'anno, magari solo in Coppa Italia, non lo so, in campionato sicuramente non ci torniamo più. La prima volta con la Roma abbiamo rubato il punto, perché è stato palesemente un furto, meritavamo di perdere. Oggi invece ce l'hanno rubati i tre punti, hanno rubato gli altri il punticino. Quindi due trasferte a Roma, a mare sotto il profilo dei risultati, perché comunque torniamo a casa tutte e due le volte senza vittoria, però questa volta meritavamo noi, questa volta meritavamo noi, e poi in realtà meritavamo noi fino a un certo punto, perché se stai meritando tutta la partita all'ultimo secondo, fai il cinema degli orrori, perché non sei riuscito a chiuderla, allora forse non te la meriti tanto, allora forse ti meriti la sconfitta, quindi non lo so se meritavamo noi. Farò le pagelle sicuramente, stavolta faccio anche la reaction, non mi interessa, inizio a fare il download adesso, oggi pomeriggio ci lavoro, così magari entrosera vi porto le pagelle, domani la reaction, e chiudiamo definitivamente questo lastio Juve, speravo di parlarne veramente in tutt'altra maniera di questo lastio Juve, ero già tranquillo, ero contento, non ho ancora pranzato, è domenica, sono le 14.35, per vedere la partita in live su Twitch e per fare il post partita su YouTube, giù c'ho la carbonara fredda, me la mangio fredda, perché ho detto mi guardo la partita, era meglio mangiarci una carbonara calda, era meglio mangiarci una carbonara calda, anch'io che però mangio la carbonara quando ho giocato nella squadra romana, sono più stronzo, sono il più stronzo di tutti. Per sdrammatizzare, per sdrammatizzare, perché una partita come questa, caldo con una sconfitta veramente all'ultimo istante, c'è no, come fai a mandare giù una cosa del genere? Un boccone amarissimo, è una roba che mi fa male, queste poi mi mandano nei matti, e allora ce le meritiamo a un certo punto, poi di farle noi all'ultimo. L'Alastia tra l'altro le sta vincendo, facendo gol e ribaltando tutti gli ultimi secondi, anche col Toro la settimana scorsa, avranno preso questa confidenza, Kai Sedo fa sempre gol all'ultimo secondo, però io adesso questa me la segno, questa ci deve tornare indietro, io a un certo punto, durante questa stagione, una partita complicatissima la voglio risolvere all'ultimo secondo, anche se non ce lo meritiamo, con un errore degli altri che magari hanno fatto una partita perfetta, e magari in Champions League, però più che altro in campionato tre punti ci servivano. Vanno a rovinarsi anche la prestazione a tutti quelli che avevano giocato bene, perché una partita che giochi bene, poi ci sono questi errori che determinano fortemente il risultato, è ovvio che poi anche a livello di valutazione generale del giocatore si cala, si viene tanto indietro, perché non ci puoi fare niente. Questi sono errori da mattita rossa, io non so quanto Piro possa essere arrabbiato per questa cosa, Ronaldo quanto possa essere arrabbiato per questa cosa, ma lo stesso di bala con se stesso, Bonucci invece ha fatto così, e no Bonucci, ce l'avevi te, ti ha fatto piede perno, come nel basket. Adesso me la riguarderò meglio, a caldo vi dico queste cose, poi magari è un video pieno di stronzate come al solito. Fino adesso non abbiamo ancora parato la partita, perché nel frattempo c'è stata una partita anche abbastanza buona, dove abbiamo palleggiato, dove abbiamo iniziato molto bene, all'inizio abbiamo convinto, poi ci siamo un po' spenti ma per cercare di far venire fuori l'alastro e attaccare la ripartenza, abbiamo fatto anche delle buone ripartenze, c'è stato questo 3-5-2, questo 3-4-1-2, che diventava 4-4-2 come al solito, con frabotta molto alto, quadrado molto alto, alcune volte Ronaldo e Morata che si cercavano, si trovavano, facevano le ripartenze, però dobbiamo concretizzare. Quante volte anche Ronaldo è arrivato là davanti, e non era assolutamente lui quello messo meglio, e voleva fare lui, come al solito, egoismo. Cristiano lo so che prenderlo a sciare con te, lo so che hai già fatto un miliardo di gol per la Juventus in un miliardo o meno 100.000 partite, però ogni tanto devi giocare anche da squadra, ti sei fatto male, l'unico non è vero, perché oggi ha fatto anche del pressing, ma è uno dei pochi momenti in cui si era messo a disposizione della squadra. Però io da Ronaldo voglio anche queste cose qua, ora che inizi ad andare nella fase finale di Carrera, non può essere sempre solo lui. se c'è uno messo meglio, gliela dai. Già l'altra sera in Champions l'abbiamo sottolineata questa cosa. Anche oggi arrivavo in aria, voleva tirare lui, anche se non era la soluzione migliore. Lo so, è prenderlo a lasciare, ma lascia dei punti per strada dopo. E poi ovviamente la colpa ricade su Dybala, su Rabiot, su Bentancur, su Bonucci, che sicuramente si fanno infilare e ragionano e gestiscono la palla come i polli. Però queste partite le dobbiamo chiudere prima. Mi piace a questo video, o a un futuro in descrizione, vado a scaldare la carbonara, buona, buona riscaldata. E cerco di sbollire un po' la rabbia. Potrei scaldarla soltanto con il mio odio in questo momento.